Eccellenza del territorio a Irene Catarella Irene Catarella per essersi distinta nel magnifico, ancorché complesso mondo della poesia e avere divulgato la cultura cammaratese Allora, buonasera a tutti per me sono emozionatissima perché voglio dedicare questo premio a mio padre Enzo Catarella e a tutti i miei antenati che sicuramente dalla sopra ci guardano per me cammarata è origine quando io giro sindaco e dicono di dove sei il primo paese che dico è cammarata bravo non so se notate, questa borsa l'ha fatta fare mio padre dall'artigiano Micelli e che cosa c'è? È unica c'è una foto di cammarata ho l'onore questa sera di volerti dare sindaco il mio libro io ho pubblicato il libro con la Mondadori no, non ti preoccupare che ho inditolato hashtag cantoanima è una delle due poesie che è scritta in siciliano, in italiano e in inglese è dedicata a cammarata che io chiamo il Borgo Bello questo è per te un attimo perché poi con l'occasione chiamo Maria Tuzzolino una rappresentante della biblioteca perché ne voglio donare una copia alla biblioteca grazie e poi visto che questa edizione è dedicata alle donne abbiamo avuto una grande direttrice artistica un applauso a Patrizia un libro anche per te grazie 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 foto di Enrico foto di Enrico complimenti per l'orientazione della settimana della cultura e per tutto quello che fa il sindaco e l'amministrazione grazie un applauso a tutti voi grazie ancora grazie grazie sono veramente emozionata per aver ricevuto questo premio questo che mi attista come eccellenza del servitore in realtà il mio fine è stato sempre quello di incentivare il problema del servitore di cammarata dalle mie origini sia da da dei miei antenati di mio padre di tutto Catarella di tutta la famiglia Catarella del bescopo Catarella della famiglia Chimento mia donna e mia donna e quindi per me è una cosa importante è una cosa veramente emozionale ringrazio il sindaco io vi sento il suo pane per aver rionorato di questo premio e tutta la registrazione venite a provare e vedere cammarata che è un corgo meraviglioso e ora vi facciamo vedere la sua versione sono fiera di aver contribuito a cammarata con l'Europa Presidente della FIDAPA ora con il Presidente del Brutto Storico a Bates anche per si conti di cammarata e gruppi di San Giovanni e grazie a tutti veramente sono un grande di questo corso cammarata per me è origine è casa è territorio venite tutti a vedere questo corgo meraviglioso in Sicilia e grazie a tutti in Sicilia grazie a tutti 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 Grazie a tutti.